Ciao a tutti ragazzi qua Dext e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online E oggi ragazzi volevo parlarvi del nuovo DLC Love Riders che è stato rilasciato da pochissimo Oggi andremo ad esplorare tutti i vari nuovi contenuti eccetera Vi ho già portato un video in cui modificavamo il primo Love Rider quindi la prima auto Se vi va troverete ovviamente il link in descrizione E in più ragazzi nel corso delle prossime ore usciranno nuovi video in cui modificheremo i prossimi insomma veicoli Parlando delle varie novità avremo un'icona in basso a destra nel cellulare Che ci porterà al sito, al nuovo sito delle auto e delle varie modifiche Benny Originals Motorwork Che insomma ci mostrerà ragazzi un po' l'autosalone, tutti i veicoli disponibili, vari prezzi Le modifiche che possono essere effettuate ovviamente alcune perché ce ne sono tantissime Vengono mostrate soltanto alcune delle modifiche E in più nella parte listino avremo insomma la possibilità di vedere tutti i vari veicoli che potremmo modificare E in più anche insomma comprarli ovviamente questa è la cosa principale Comprarli per poi modificarli E potremo anche come dire piazzare una meta in questa parte della mappa Cioè ovvero dove si trova l'officina di Benny Per insomma andare a modificare tutti i vari veicoli Avremo anche ragazzi una missione inizialmente da fare per conto di Lamar Non è obbligatoria ma comunque sia il gioco ci introdurrà inizialmente questa missione Poi una nuova cosa abbastanza simpatica è quella di poter avere un controllo remoto nel veicolo Quindi potremo accendere il motore dal menu interazione Potremo accendere le luci, cambiare stazione radio Ma potremo anche ragazzi addirittura aprire tutte le varie portiere dell'auto Compreso il cofano anteriore e posteriore Così da poter vedere il motore e tutto ragazzi è veramente fantastico Oltretutto nel cofano posteriore tramite le modifiche si può installare uno stereo Dove si sentirà appunto la radio che abbiamo inizialmente selezionato Quindi è veramente ragazzi un qualcosa di stupendo Il personaggio fa tutto tramite un telecomando Il che è anche insomma abbastanza bello Perché se fosse stato senza telecomando sarebbe stata molto irrealistica come cosa Invece così è abbastanza insomma reale e fattibile il tutto Comunque sia è un qualcosa di non importantissimo Ma è una nuova opzione che è stata aggiunta Secondo me molto molto carina Per mostrare appunto i nuovi motori che sono stati inseriti E anche l'impianto stereo e compreso anche gli interni Quindi veramente ragazzi ottimo Poi le altre cose che sono state aggiunte sono vestiti e armi Parliamo inizialmente delle armi Le armi sono soltanto due Abbiamo una piccola mitraietta Una pistola mitraiettrice ragazzi Veramente molto bella e potente Insomma non costa tantissimo Non è comunque sia una grandissima arma Però è una piccola arma che è stata aggiunta Comunque sia riguardo il DLC Veramente veramente bella La seconda invece ragazzi è un macete Un macete a mio parere potentissimo Perché l'ho anche provato Veramente una bella arma questa qui corpo a corpo Che non è che faccia chissà quale differenza Rispetto magari alcuni coltelli già aggiunti tramite altri DLC Che erano piuttosto potenti Oppure l'accetta Non c'è particolare differenza a livello di potenza Dato che tutti uccidono più o meno con un colpo Almeno insomma i vari passanti eccetera Però è comunque una nuova arma corpo a corpo Che è stata aggiunta Poi parlando invece dei vestiti Che insomma è l'ultimo Più o meno l'ultimo contenuto che è stato aggiunto I vestiti ragazzi sono veramente belli Ci sono dei nuovi completi Non sono tantissimi rispetto magari altri DLC Si tratta di pochi vestiti Però sono veramente belli e particolari E soprattutto diversi da tutti gli altri vestiti Genere di vestiti che erano stati aggiunti Tramite altri DLC o aggiornamenti vari Quindi abbiamo comunque Un qualcosa di veramente bello Io infatti ho selezionato Questo qui Quello che mi piaceva di più E poi un'altra cosa ragazzi che è stata aggiunta Molto positiva sicuramente per tanti giocatori È la quarta proprietà La possibilità di aggiungere O comunque sia di comprare Una quarta proprietà Con garage Oppure soltanto garage Oppure soltanto appartamento Oppure appartamento appunto con garage Potremmo acquistarle Nel sito Dynasty Ci sono insomma forse delle nuove proprietà Ragazzi sinceramente non ne ho idea Però ci sono a quanto pare degli appartamenti Riarredati In vendita Che secondo me sono nuovi appartamenti Rispetto prima Io purtroppo non ricordo Perché sono veramente tanti Anche quelli aggiunti magari tramite Gli altri DLC Altre vendite eccetera Quindi Dovrebbero essere dei nuovi appartamenti Ragazzi Ma in generale Con questo DLC Con questo aggiornamento Potremmo acquistare anche la quarta proprietà Detto questo ragazzi Nulla Queste erano tutte le ultime Novità Informazioni Informazioni E contenuti Io vi ricordo che nel canale Vi porterò altri video Riguardo altre modifiche Dei veicoli Quei da extra Lasciate un bel mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao